Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elio Giamello, sono professore di chimica generale all'Università degli Studi di Torino e socio corrispondente di questa accademia, l'Accademia delle Scienze di Torino. La conversazione di oggi verte sul tema della luce e su un aspetto particolare del tema della luce. In realtà quando diciamo la parola luce noi abbiamo probabilmente tutti un riflesso di tipo sensoriale, estetico, pensiamo a un tramonto, a un raggio di sole, pensiamo a un bel quadro, pensiamo a dei fuochi d'artificio, ai colori, a cose di questo genere. Sono tutti argomenti molto affascinanti ma oggi noi li lasciamo un pochino da parte perché parleremo soprattutto delle connessioni tra la luce, l'energia e l'ambiente. Prima di fare questo però devo dire due parole su che cos'è la luce, che non è una cosa semplicissima da affrontare. Allora se noi abbiamo un raggio di luce che viene dal sole, bianca quindi, e la facciamo passare attraverso un prisma, come vedete in questa diapositiva, la luce si scompone nelle sue componenti, che sono componenti che noi chiamiamo colori perché il nostro apparato sensoriale li decodifica in questo modo. In realtà la luce che noi vediamo come colori è la luce cosiddetta visibile, cioè una frazione, una piccola frazione di un insieme molto grande di componenti che non tutte, anzi pochissime delle quali, sono apprezzabili con il nostro sistema visibile. La luce è essenzialmente un fenomeno ondulatorio, sono delle onde particolari, dette onde elettromagnetiche, e hanno questo andamento che vedete in una rappresentazione pittorica, come se fossero onde del mare. Ma l'importante è capire che un fenomeno ondulatorio porta con sé delle grandezze che sono tutto sommato semplici da capire. Sono la lunghezza d'onda, la vedete rappresentata qui, e la distanza che c'è tra una cresta dell'onda e l'altra, la frequenza che è la velocità della pulsazione, il numero di pulsazioni nell'unità di tempo, e la velocità con cui questo fenomeno ondulatorio, la luce, si trasmette, è la famosa velocità della luce, 300.000 km al secolo. Ora, la luce visibile, quella che noi distinguiamo come colori, grossomodo ha delle lunghezze d'onda che per il mondo nostro macroscopico possiamo definire molto piccole. Passiamo da 400 milionesimi di millimetro, lo vedete in basso la luce violetta, ha 700 milionesimi di millimetro la luce rossa, ma se noi andiamo a vedere quello che ci ha scomposto il nostro prisma, scopriamo che ci sono anche altre cose che l'occhio non percepisce, ma che ci sono. Dal sole ci arrivano anche delle radiazioni che chiamiamo ultraviolette, lunghezze d'onda ancora più corte di 400 milionesimi di millimetro, e lunghezze d'onda infrarosse, al di là del rosso, quindi lunghezze d'onda più lunghe di 700 milionesimi di millimetro. Dicevo prima che questa componente visibile è una frazione estremamente piccola di un fenomeno immenso che è quello della radiazione elettromagnetica, si parte dai raggi gamma, si arrivano alle onde che usiamo per le trasmissioni, le onde radio, ma quello che ci arriva dal sole, ed è quello su cui punterò oggi la mia attenzione, non è tutto questo, ma è una cosa che può essere rappresentata in questo modo, come vedete in questa animazione. Cioè dal sole alla terra ci arriva essenzialmente molta luce visibile, una frazione piccolina, 4-5% di radiazione ultravioletta, il resto viene filtrato prima, per fortuna, e poi un abbondante componente infrarossa. Ecco, questa frazione piccola dello spettro della radiazione elettromagnetica è quella che ci arriva dal sole, ed è quella di cui parliamo oggi per le implicazioni che ha col discorso dell'energia, perché luce vuole dire anche energia, e se uno avesse dei dubbi può pensare che può riscaldare con la luce del sole un recipiente d'acqua, qualcuno molto abile già 200 anni prima di Cristo bruciava in questo modo, e Archimede da Siracusa, in questo modo i navigli dell'esercito di Roma. Allora, l'energia, la luce solare trasporta energia, e dubbi? Allora non ne abbiamo, ma l'energia è di tanti tipi diversi, e già esaminando il fenomeno della luce solare noi capiamo che si può trasformare una forma di energia in un'altra, perché l'energia della luce del sole, che ci arriva da questa, che è la nostra stella, che brilla da quasi 5 miliardi di anni, è energia fondamentalmente nucleare, ci sono delle reazioni di fusione nucleare che avvengono dentro questo corpo celeste, e l'energia che li si libra in parte almeno viene trasmessa a noi, alla Terra, che siamo lì a riceverla attraverso queste onde elettromagnetiche, attraverso la luce in modo semplice. Allora, questa energia arriva sulla Terra, ha alimentato fondamentalmente la vita del pianeta per miliardi di anni, in tutte le forme che ci sono state, e è stata oggetto di trasformazioni, per esempio è stata oggetto anche di trasformazioni che hanno portato a conservare questa energia in altre forme. La luce è energia elettromagnetica, ma è stata in parte, almeno la luce arrivata, trasformata in energia chimica attraverso dei processi che sono legati alla crescita delle piante e diciamo alla evoluzione chimica della struttura delle piante nel giro di milioni di anni, quei fenomeni che hanno portato alla formazione dei cosiddetti combustibili fossili, il carbone, il petrolio, il gas naturale. Allora, è di questo che noi dobbiamo un pochino parlare oggi. Cosa si intende per energia chimica intanto? E come si è trasformata l'energia della luce in energia chimica? Perché capire questo serve a darci qualche spiraglio per guardare al futuro. Allora, l'energia chimica, facciamo un esempio semplicissimo che tutti conosciamo, quando ci prepariamo un caffè al mattino, noi sostanzialmente usiamo un combustibile che è il metano, si combina con l'ossigeno e ci produce anidride carbonica ed acqua, ma soprattutto energia. E quell'energia termica che noi usiamo per scaldare la nostra caffetiera. Allora, l'energia chimica è quella che sta nelle molecole, lì vedete rappresentate le molecole di metano e di ossigeno e evidentemente nei legami chimici che ci sono dentro la molecola c'è un surplus di energia rispetto all'energia che c'è nell'anidride carbonica e nell'acqua da quest'altra parte e questa energia viene rilasciata in questa trasformazione ed è quella che noi utilizziamo. Un altro esempio che potrebbe sembrare, ed è effettivamente un esempio drammatico, ma ci servirà per dopo, è questo. Non c'è più il metano, c'è l'idrogeno, l'idrogeno si può combinare con l'ossigeno, forma dell'acqua e anche qui l'acqua è una molecola che ha un contenuto energetico più basso di quelle di partenza e questa energia si libera. Questo è un caso, bruciare l'idrogeno non è così facile come bruciare il metano, questo è un caso drammatico in cui siamo, è uno Zeppelin, siamo nel 1937, l'idrogeno si incendia e si produce una tragedia, ma anche un mucchio di energia termica, si produce del vapore e d'acqua perché c'erano evidentemente tonnellate di idrogeno in questo oggetto volante. Teniamo in mente questa reazione perché ci servirà da poco. Allora, qual è stato il processo mediante il quale l'energia del Sole per milioni di anni si è convertita in energia chimica. Questo processo si chiama fotosintesi ed è quello in soldoni che fa crescere le piante. È un processo difficilissimo, complessissimo, sostanzialmente inimitabile nei dettagli in modo artificiale, ma insomma ci si sta provando, lo vedremo tra poco. Questo processo converte l'energia solare e la immagazzina come energia chimica nei legami chimici delle molecole che formano le piante, gli zuccheri e così via. È una reazione cosiddetta, i chimici chiamano queste reazioni reazioni in salita. È come dire, si parte in questo caso il contrario della combustione, si parte da molecole come l'anidride carbonica e l'acqua, che sono il punto di partenza della fotosintesi, povere di energia, ci si arriva a molecole che hanno un grosso contenuto, un più alto contenuto energetico. Questa energia non può essere creata dal nulla, questa energia in più, questo surplus di energia è quella del sole, quella della luce solare, che viene trasformata e immagazzinata nei legami chimici di queste nuove molecole, li abbiamo scritto zuccheri e ossigeno, perché si libera anche dell'ossigeno, come probabilmente tutti sapete dalla fotosintesi, questa energia chimica viene immagazzinata in questo processo. È una reazione per così dire in salita, è come una tappa del Giro d'Italia, noi partiamo da Torino e arriviamo a 250 metri, arriviamo in un posto che è a 1000 metri, quindi c'è un surplus energetico in questo senso, e come vedremo per arrivare a quel posto che a 1000 metri magari si passa su un colle che è 1500 o 1800, gli esempi li possiamo immaginare tutti. Allora, questo meccanismo di immagazzinamento della luce è un pochino complesso, e per sfiorarlo, per capirlo un pochino di più, bisogna che tentiamo di cambiare anche un pochino il punto di vista sulla luce. Fenomeno ondulatorio sì, ma non solo. Se noi fossimo, l'abbiamo descritto in questo modo, queste onde che viaggiano velocissimamente nello spazio, queste pulsazioni rapidissime del campo elettromagnetico, e se noi fossimo piccolissimi, piccolissimi come sono gli atomi, come sono le particelle subatomiche, gli elettroni soprattutto, che compongono gli atomi, avremmo una visione diversa della luce, vedremmo la stessa cosa che noi vediamo così nel mondo microscopico, come se fosse composta da una serie di piccoli proiettili energetici, piccoli coaguli di energia che si chiamano fotoni, e ognuno dei quali porta un contenuto di energia uguale a tutti gli altri fotoni della luce con la stessa frequenza. Quindi i fotoni rossi sono un pochino meno energetici, per esempio dei fotoni gialli, che a loro volta sono un pochino meno energetici, dei fotoni violetti o ultravioletti. Immaginiamoli come dei piccoli proiettili, sono questi piccoli proiettili che vanno a colpire gli elettroni che stanno nelle molecole. Cioè noi dobbiamo adesso capire, poco per volta, che un processo come la fotosintesi è complesso, ma parte dal principio di sfruttare questa energia dei fotoni, dei proiettili energetici della luce, che viene assorbita da una molecola particolare, mette per aria gli elettroni, che questa molecola normalmente custodiva in una posizione stabile, stazionaria, e porta una reattività chimica che prima non c'era. Se guardate questa animazione, sulla destra vedete l'onda che arriva, ma qui è onda e fotone, c'è questa natura duplice della luce, arriva, colpisce un elettrone che stava lì a riposo, gli elettroni vanno a due a due, sono disposti come su una scalinata di energia diversa, e annulla se stesso perché trasmette la sua energia all'elettrone che se ne va a spasso da un'altra parte. Mi fermo qui perché se no andiamo in cose troppo complesse e anche molto lunghe di altro che adesso devo parlare. Ma questa situazione è come se noi avessimo, guardiamo qui a sinistra, un pallone o dei palloni su una scalinata, arriva qualcuno, dà un calcio al pallone, questo pallone acquista un'energia superiore perché adesso sta là in alto, quindi ha un'energia di tipo diverso. Con gli elettroni c'è un problemino in più che la reattività di questi sistemi deriva dal fatto che qui c'è un elettrone da solo, ma anche qui è questo che è il buco lasciato dall'elettrone che c'era, si chiama lacuna ma a volte anche buca, impartisce una particolare reattività ai sistemi. Allora abbiamo i fotoni che generano una coppia elettrone-buca in un determinato sistema. Questo avviene nelle foglie in un modo molto complesso, ma il punto di partenza, la prima tappa è proprio questa. Non c'è ancora la CO2, partiamo dall'acqua, ricordiamo acqua e anidride carbonica che fanno la fotosintesi, la prima tappa la fa l'acqua e quattro fotoni dell'acqua che arrivano su un complessissimo centro catalitico che sta nella foglia verde, la vene, sono captati da un'antenna che si chiama clorofilla e avviene un processo molto molto difficile che non avverrebbe senza queste due condizioni, l'energia della luce e la capacità catalitica che c'è nella foglia. Arrivano quattro fotoni e due molecole d'acqua sono trasformate in ossigeno, si estrae l'ossigeno dall'acqua, che cosa resta? Resta l'idrogeno, tutti sanno che l'acqua H2O è fatta da idrogeno-ossigeno e questo idrogeno non viene prodotto come tale nella fotosintesi, ma viene inviato, per così dire, spacchettato in un'altra regione della foglia in cui c'è l'anidride carbonica e cominciano i complessi processi biochimici che portano alla formazione degli zucchi. Ma io vorrei fermarmi qui. Già qui questo è un processo molto difficile ed è il momento essenziale, iniziale, in cui c'è il primo guadagno energetico della reazione di fotosintesi. In altri termini abbiamo raccolto l'energia della luce con un'antenna e l'abbiamo con l'aiuto di un catalizzatore che sta nella foglia convertita in energia chimica. L'abbiamo intercettata, quindi abbiamo prodotto l'energia chimica che c'è nella pianta. Vedete, questo vi parlavo delle reazioni chimiche come il profilo altimetrico di una tappa del Giro d'Italia. Le reazioni di cui parliamo sono reazioni che hanno un bilancio che è in salita, va bene? Si arriva in un punto più alto di energia. Lo vedete che i prodotti della reazione, quindi l'arrivo della mia tappa del Giro d'Italia sta più in alto del punto di partenza. Ma ci si arriva con un profilo altimetrico che senza un aiuto importante sarebbe insostenibile, impercorribile. È troppo alto e troppo impervio questo colle. Allora noi raccogliamo l'energia della luce che ci farà fare comunque il salto di energie e sarà racchiusa nei prodotti della reazione negli zuccheri e però il catalizzatore, il complesso sistema catalitico che sta nella foglia ci aiuterà ad abbassare il profilo altimetrico della tappa. Ci farà passare per un colle un po' meno impervio. Allora, cosa c'entra tutto ciò con il panorama dell'energia? Beh, c'entra molto perché l'energia nel mondo in cui viviamo specialmente nelle società più moderne e più sviluppate l'energia è un fattore di importanza fondamentale. Va bene? Il nostro mondo viaggia alle velocità in cui viaggia grazie al fatto che c'è una provvista di energia costante che viene prodotta, che viene distribuita, che viene consumata. Il mondo sta consumando sempre più energia a partire sostanzialmente dalla rivoluzione industriale e lo sta facendo consumando le fonti fossili. Cioè sta consumando con una certa rapidità il grande regalo che ci ha fatto durante milioni e milioni di anni la fotosintesi naturale. E allora il petrolio, il gas naturale e il carbone lo vedete, sono al centro. Questo è un grafico che ci fa vedere i consumi dal 94 grosso modo al 19 dato cui abbiamo i dati. Vedete che molto petrolio, molto gas naturale il metano, il carbone si era ridotto un po' e purtroppo dirò poi perché purtroppo grazie all'avvento di nuove potenze sulla scena internazionale Cina-India si è di nuovo molto aumentato il consumo di carbone per motivi energetici. Il nucleare è costante da molti anni e non è destinato a crescere e qui però c'è la novità qui in alto. Sono le rinnovabili, le energie di tipo rinnovabile che se noi avessimo fatto questo discorso nel 1990 sarebbero state una frazione invisibile su questo diagramma sostanzialmente oggi invece cominciano a rappresentare qualcosa di visibile e di sempre più importante. Sono legate alle forme di tipo lo vedremo idroelettrico fotovoltaico e cose di questo genere. Perché sono importanti le rinnovabili? Perché il consumo ma qui non mi addentro in questo ma è una cosa che tutti immagino conoscete il consumo di combustibili fossili e la loro combustione genera anidride carbonica CO2 questa anidride carbonica che è consumata in parte dalla crescita delle piante dalla floresta amazonica e dal fitoplancton che sta nel mare però questo sistema che consuma l'anidride carbonica non riesce a consumarla nella misura necessaria che sarebbe necessaria per cui siamo arrivati ad un accumulo importante siamo oltre le 400 parti per milione di anidride carbonica nell'aria e questo provoca il riscaldamento globale non parlerò di questo ma con tutti i problemi che a questo sono legati allora come si esce da questa problematica l'energia serve il mondo per svilupparsi deve consumare dell'energia e tuttavia noi non possiamo andare avanti in questo dissennato consumo di combustibili fossili anche perché ci servono a fare altro i fossili dal petrolio si fanno un mucchio di cose i detergenti le materie plastiche i medicinali è una risorsa in fondo troppo preziosa per continuare a bruciarla come se nulla fosse e questo sta entrando un pochino piano piano nella testa delle persone e speriamo nella testa dei governanti se la terra fosse come dire un'automobile avrebbe una certa potenza di consumo nelle unità di misura che si usano di solito si parla di teralat e grosso modo il fabbisogno energetico della terra in termini di potenza cioè di quantità di energia per secondo o per minuto o per anno fate voi comunque il teralat si riferisce al secondo è di 18 teralat ora la risorsa del sole quanto ci manda il sole attraverso le onde elettromagnetiche che arrivano sulla superficie della terra beh ce ne manda molta 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 di più qui i dati sono controversi qualcuno li conta in un modo qualcuno in un altro ma non ha importanza tutti sono concordi che c'è molta più energia che ci arriva dal sole di quella che noi consumiamo allora il problema è risolto facilmente no non è così se no se no lo sapremmo l'avremmo già risolto invece i problemi ci sono perché naturalmente il sole ha degli enormi vantaggi una stazione di servizio perenne durerà ancora alcuni miliardi di anni è diffusa e è gratis nessuno nessuno ci ha messo ancora su qualche qualche tassa va bene però questa quantità straordinaria di energia che ci arriva dal sole non è concentrata è un'energia molto diluita è riversata su una superficie enorme e questo è un problema quando si vuole raccogliere inoltre e questo è un dato molto importante è una fonte intermittente soggetta a fluttuazioni che sono il giorno e la notte il bel tempo e il brutto tempo le stagioni per cui il nostro mondo ha bisogno di energia sempre in modo costante e non può ondeggiare troppo allora ecco dove nascono i problemi per lo sfruttamento dell'energia solare in modo rinnovabile proprio da questa dall'esigenza di raccoglierla in un modo intelligente di trasformare questa energia in un modo intelligente ma anche di averla a disposizione in un modo intelligente molte cose ne avrete già viste si può ottenere energia dal sole semplicemente come faceva Archimede l'abbiamo visto poco fa raccogliendo l'energia del sole e basta e quindi riscaldando delle cose come si fa sul tetto di una casa per scaldare l'acqua della doccia o come si fa in scala molto più grande nei cosiddetti impianti del solare termodinamico vedete questi specchi che raccolgono l'energia del sole e con questa scaldano un determinato fluido la stessa energia eolica che sta crescendo molto è un'energia che ci deriva dal sole e dall'energia termica che entra nell'atmosfera e che mette in moto le masse e i venti e che viene trasformata però lo vedete subito in una forma molto fruibile a cui siamo abituati dell'energia che è l'energia di tipo elettrico la produzione diretta di energia elettrica si può fare direttamente dalla luce solare attraverso dei dispositivi che si chiamano celle fotovoltaiche ormai tutti quanti un po' le conosciamo questo è un fenomeno molto molto interessante ed è di nuovo basato su qualche cosa che abbiamo illustrato nella prima parte di questa conversazione di oggi e cioè l'arrivo di fotoni su un determinato materiale in questo caso non è una foglia un materiale artificiale in cui c'è un semiconduttore che è stato modificato in un modo opportuno non sto a dilongarmi su questo ma c'è una zona in cui la radiazione arriva i fotoni rilasciano la loro energia e si crea di nuovo una coppia questa coppia celebre ormai elettrone e buca ma qui elettrone e buca sono congeniati in modo tali che la loro voglia di ricombinarsi che c'è perché un elettrone e una buca tendono fatalmente a volersi rincontrare e il problema sta nel fare le cose in modo da non farli rincontrare per sfruttare questo surplus di energia questi non si incontrano perché il dispositivo che è stato messo a punto per il fotovontaico ha come un muro che si erge tra di loro e per rincontrarsi e rituffarsi l'uno nelle braccia dell'altro devono fare un giro e questo giro che fanno qui intorno eccolo qui lo fanno in un circuito elettrico e ci danno corrente e ci danno energia elettrica questo è un modo importante che sta crescendo molto adesso lo vedremo per produrre energia elettrica dalla luce solare naturalmente ci sono dei campi come questi che sono enormi ci sono invece impianti più modesti sulle case ci sono anche non sono belle queste cose a vedere qualcuno lo dice ma si possono anche mettere in posti particolari non è necessario mettere un impianto fotovoltaico dentro il Colosseo o voglio dire in piazza dei miracoli a Pisa ci sono delle zone ci sono una serie di edifici abbandonati che possono essere utilmente attrezzati per questo ci sono anche delle forme più estetiche di fotovoltaico ecco dimenticavo questo è il sole che naturalmente deve irrangiare il nostro dispositivo guardate qui per esempio le vetrate di questo museo che sta a Losanna hanno delle celle fotovoltaiche cosiddette di nuova generazione che sono persino fabbricabili con dei costi non enormi e che sono anche che hanno un certo valore estetico perché le si possono colorare in modo diverso vedete quelle vetrate stanno producendo l'energia elettrica che serve ad alimentare questo edificio la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico è aumentata di circa 20 volte lo vedete in questo diagramma negli ultimi dieci anni ed è un settore in grande crescita perché stanno diminuendo i costi e il costo di produzione dell'energia elettrica attraverso il fotovoltaico sta diventando era ora lo aspettavamo da tempo competitivo con le altre forme che derivano invece dagli idrocarburi fossili quindi abbiamo un incentivo in più per andare avanti ultimo problema che tocco rapidamente è il fotovoltaico va benissimo e ci serve moltissimo ma naturalmente di notte non funziona se il tempo è brutto funziona meno bene di quando c'è il sole allora il problema dello stoccaggio dell'energia dell'immagazzinamento dell'energia del sole per averla a disposizione quando si vuole beh un piccolo passo in questa direzione può essere fatto ritornando all'idea della fotosintesi ricordate che avevo fatto vedere la prima tappa della fotosintesi dicendo bisogna cominciare a lavorare sull'acqua prima di arrivare alla nitride carbonica e romperla in idrogeno e ossigeno ecco è quello che possiamo anche in parte fare in modo artificiale con dei dispositivi che si chiamano un po' pomposamente perché sono molto più rudimentali un po' pomposamente vi dicevo foglie artificiali se noi ci fermiamo qui senza pretendere di costruire immediatamente una pianta cosa che è un pochino difficile abbiamo comunque scisso l'acqua con dei fotoni di luce particolare in idrogeno e ossigeno e possiamo usare l'idrogeno come un combustibile un combustibile che ci viene dal sole quindi un combustibile solare questa che vedete a sinistra è un piccolo esempio di un dispositivo che si chiama foglia artificiale è un oggetto che è immerso in acqua e illuminato semplicemente con la luce ambientale con la luce del sole un pochino sviluppa idrogeno e ossigeno queste cose sono già possibili il problema è la loro scalabilità andare su grande scala e però le strade possono essere tante noi abbiamo bisogno cioè di pensare a fare questo processo spezzare l'acqua con dell'energia del sole in idrogeno e ossigeno e usare l'idrogeno come un combustibile solare produrre idrogeno è anche possibile farlo con l'energia elettrica in fondo molti di noi a scuola hanno visto qualche professore più o meno impegnato a far vedere l'elettrolisi dell'acqua se noi disponiamo di energia elettrica rappresentata lì da una batteria ma anche dalla rete di alimentazione mettendo due elettrodi in un'acqua un pochino acidulata si produce idrogeno e ossigeno lo vedete qui cioè questa reazione è una reazione che è stata fatta mille volte il problema è che noi dobbiamo fare questa reazione in un modo diverso non usare la batteria non usare la corrente elettrica che ci viene dalla combustione dei fossili ma usare o della corrente elettrica che ci viene dal fotovoltaico e quindi dal sole o il sole stesso allora in questo modo si innesca è un processo virtuoso l'energia prodotta per esempio come energia elettrica in modo rinnovabile fotovoltaico o eolico viene usata per fare delle elettrovisi dall'elettrolisi dell'acqua si ricava l'idrogeno l'ossigeno se ne va e si usa per altre cose e l'idrogeno arriva agli utilizzatori finali che sono per esempio il sistema di trasporti le case e cose di questo genere però attenzione questo idrogeno non è diciamo un oggetto molto semplice da manipolare certamente è importante perché ha un alto potere calorifero rispetto al peso cioè una quantità in peso di idrogeno vi libera un mucchio di energia ma è un oggetto molto poco denso e per poterlo utilizzare in modo pratico bisogna o comprimerlo molto o liquefarlo cosa che non è banale bisogna andare a temperature bassissime o immagazzinarlo in certe sostanze che ce lo rilascino poco per volta queste cose sono tutte cose che sono studiate moltissimo nel mondo in questo momento perché utilizzando l'idrogeno noi potremmo arrivare ad usarlo come combustibile nuovo di tipo alternativo di tipo rinnovabile ribruciarlo con l'ossigeno e fare il percorso inverso di prima ottenere acqua ed energia ma ottenerla come non certo nel modo drammatico dello Zeppelin che abbiamo visto ma usando dei dispositivi per esempio dei dispositivi elettrochimici delle batterie queste batterie già esistono sono importanti si chiamano celle a combustibile concettualmente non c'è molto di diverso da una delle batterie o delle pile che usiamo in un'automobile in una torcia ma è una batteria alimentata in continuo viene alimentata con idrogeno si prende l'ossigeno in giro dall'aria questa reazione viene condotta quindi nella batteria si forma dell'acqua che viene sparata via e ci dà molta energia perché molta energia perché questa reazione ha un contributo energetico molto alto e perché questa macchina che chiamiamo c'è l'elettrochimico batteria ha un rendimento di sfruttamento di energia enormemente più alto di quella di qualsiasi motore a combustione interna che sia ciclo 8 ciclo diesel noi sprechiamo il più dell'energia che mettiamo dentro qui invece la raccogliamo quasi tutta e vedete che il percorso è invertito abbiamo usato l'energia del sole il fotovoltaico i sistemi a foglia artificiale per dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno e gli abbiamo dato l'energia del sole a questo punto la recuperiamo bruciando in modo intelligente non con un'esplosione bruciando l'idrogeno con ossigeno in una cella combustibile ricavando tutta l'energia questo è un assetto che potrebbe essere un assetto virtuoso del sistema energetico siamo alle porte di questo beh in parte sì ci sono già degli esempi io concludo con questo esempio che riguarda il nostro paese in cui insomma qualcosa si sta facendo a Bolzano tirano molti autobus almeno una ventina credo certamente una dozzina è stata la prima dose in cui questi autobus funzionano a idrogeno hanno dentro delle celle a combustibile che sono ormai delle tecnologie piuttosto raffinate le usano anche gli astronauti quando vanno in giro nello spazio questo autobus quindi fa un rifornimento di idrogeno l'idrogeno viene prodotto in modo rinnovabile usando l'energia idroelettrica che in quella regione è abbondante e l'autobus dopo complesso il pieno di idrogeno se ne va e dal suo tubo di scappamento esce dal vapor d'acqua e scusate se è poco ecco ho tentato di fare vedere questo insieme di processi un pochino complessi che possono prefigurare uno scenario energetico diverso per il domani siamo alle porte di una rivoluzione forse ma non ce la siamo inventata tutta noi oggi guardate cosa scriveva Giulio Verne nel 1874 cioè nell'altro secolo nella seconda metà dell'altro secolo nell'isola misteriosa già c'era un'intuizione formidabile e assolutamente stupefacente di cosa poteva capitare nel futuro l'ingegnere Smith dice ai suoi amici sull'isola che cosa si brucerà al posto del carbone l'acqua stupore generale sì l'acqua decomposta nei suoi elementi costitutivi dall'elettricità che sarà allora una forza potente e maneggevole io sono convinto che un giorno l'idrogeno e l'ossigeno utilizzati simultaneamente o separatamente formeranno una sorgente di calore e di luce inesauribile questo vuol dire avere uno sguardo profetico per l'avvenire vi ringrazio molto per la vostra attenzione grazie a tutti